Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato oggi una nuova poesia dal titolo Non farti traviare. Spero che dopo la spedirete su tutti i vostri contatti whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Secondo me è bella la fierezza ed è densa di tanta forza interna, vitale. Ci può donare l'amitezza e quindi un'alta carica di calma interiore. Per questo motivo non dobbiamo farci trasportare dagli altri, andare a pati segreti per fare il male agli altri, ecco, con gente che vorrebbe il male degli altri e quindi commettere atti indiscreti, atti poco accetti. Quindi non bisogna farci traviare da balordi e gente incallita che potrebbe fare di noi, dei seguaci per fare le loro cose, ecco. Bisogna vivere una condotta retta, una vita buona, una vita educata, una vita seria, ecco. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo non fatti traviare. Quanto è bella la fierezza ed è densa di forza vitale, dona a tutti l'amitezza carica di forza solerte. Perciò non farti traviare, non andare a pati segreti con la gente che compie il male e commette atti indiscreti. Non farti traviare dai balordi incalliti che vivono col coltello tra i denti e non sanno affatto ragionare. Il mondo è ricco di positività, vivi facendo il bene sempre, coltivando la degna prosperità, quindi non farti traviare. Spero la spedirete a tutti i vostri contatti Whatsapp e arrivederci. Grazie.